da questa parte c'è una vera e propria installazione con tanto di musica l'installazione si chiama The Clearing Pastel and the Red and Purple di Natalie Duberg accompagnata dalle musiche del compositore Hans Berg a mi sembra mi sembra una versione punk e forse senza lieto fine di Alice nel paese delle meraviglie un sogno meraviglioso che si trasforma in un incubo i personaggi che diventano paradossi trasformandosi in marionette truccate in maniera vistosa e fiori fuori misura che sembrano soffocare la favola di un'attenzione morbosa come come un amore eccessivo e malato dal quale si finisce per voler sfuggire grazie 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 grazie